Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. L'intervista di Fedezza, Belve, condotta da Francesca Fagnani ha affrontato argomenti delicati, come la separazione definitiva dalla moglie Chiara Ferragni, il suo rapporto con lui sale e i problemi personali che lo hanno portato a tentare il suicidio, il cantante si apre sul tema della famiglia, riflettendo sui suoi figli, Leone e Vittoria, e sulla difficile rottura con Chiara Ferragni. La scintilla della separazione sembra essere stata accesa durante il cosiddetto Pandoro Gate, con Fedezza che ammette l'influenza del caso Balocco nella crisi con Ferragni. La conduttrice incalza con domande dirette, suscitando reazioni contrastanti in Fedez, visibilmente alterato. Quando chiede quando è finito il loro amore, il cantante si lascia andare, raccontando le incomprensioni e i rancori che hanno portato alla fine della relazione. Tra le confessioni più scioccanti emerge il dramma vissuto da adolescente, quando ha tentato il suicidio a 18 anni, collegandolo agli effetti devastanti delle sostanze di cui faceva uso. L'intervista, che poi si sposta sulle sue battaglie politiche, vira tra il serio e il faceto. Fedez sbotta provocatoriamente, dichiarando che fino a quando era sposato, era «gay» e tutto era «finto», ma ora si sente libero di essere se stesso. E voi cosa ne pensate delle parole di Fedez? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.